buongiorno e ben ritrovati oggi ci troviamo sopra south di cesana in valle tures dopo un weekend caratterizzato da temperature estremamente miti in montagna il caldo anomalo ha determinato un'intensa fusione del manto nevoso soprattutto sotto i 2.000 2.200 metri di quota sopra i 2.500 2.700 metri sono state osservate valanghe anche all'astroni determinate dall'intensa ventilazione degli ultimi giorni abbiamo trovato una discontinuità tra il manto nevoso superficiale riportato dal vento e la parte sottostante vecchia sono attualmente presenti sia croste da fusione rigelo non portanti sia zone con superfici molto dure che richiedono prudenza nell'attraversamento consigliamo come sempre di portare con voi durante le vostre escursioni dei ramponi e dei rampant per la giornata dell'epifania è previsto tempo stabile e soleggiato nei prossimi giorni non sono previste nevicate significative se non sulle creste di confine soprattutto domenica con rinforzo dei venti ma per questo occorrerà a seguire i prossimi aggiornamenti il grado di pericolo si manterrà compreso tra uno debole e due moderato ma vi invitiamo a rimanere aggiornati col bollettino valanghe del fine settimana e con questo è tutto vi salutiamo augurandovi una felice pisciania